Un benvenuto a tutti gli amanti del bel calcio da Fabio Charesa. Questa serata sembra essere concepita apposta per una bella manifestazione all'aria aperta. Le condizioni di oggi sono ideali per godersi al massimo una partita che ci regalerà sicuramente grandi emozioni. E infatti gli spalti pullulano di tifosi festanti che non vedono l'ora di ammirare le giocate dei loro campioni preferiti. Per me è un onore essere qui a commentare per voi le ceste di quest'eroe dello sport. Mettiamoci comodi e speriamo che le nostre aspettative di spettacolo e divertimento vengano confermate. L'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente fantastica. La partita è già cominciata. Lo sposta di peso e gliela porta via. Si riprenderà con una rimessa laterale. McDominay. McWire. Cristiano Ronaldo. Palla filtrante per Cavani. Occhio al tiro. Pallone fuori davvero di pochissimo. Gran peccato. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Pallone fuori davvero di freddi. Avanzano con una intricata rete di passaggi E sbaglia completamente il suggerimento William Rushford Arriva Cavani Prova a giocarla nello spazio ma non riesce Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo Visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo C'è un compagno largo pronto a ricevere L'idea era buona, le seduzioni un po' meno McTominay Un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione Cavani Bella giocata McTominay Hanno aumentato i giri del motore Luca, guarda come pressano Sì Fabio, l'intensità del pressing è cresciuta tantissimo Stanno provando ad aggredire gli avversari per conquistare Rappadi Un grande intervento nel portiere Palla filtrante per Cristiano Ronaldo Tejas Grande movimento Prova a calciare Ci arriva di nuovo E c'è il quadro Manchester United Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione ma non ha potuto nulla sulla seconda Si è fatto trovare pronto Ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il pallone C'è il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il passaggio C'è il portiere di 36 minuti C'è il portiere di numero 7 Cristiano Ronaldo Punteggio di 1-0 a Referto Dopo questo gol i prossimi minuti saranno fondamentali per capire che direzione prenderà la gara Bisogna rimanere sul pezzo e non far ripartire subito gli avversari C'è spazio Occhio McTominay Pallone lungo in verticale Errore qui pallone sprecato Gilles Si concludono qui i primi 45 minuti di calcio Finiscono così 45 minuti di calcio Una prima parte non certo a vara di emozioni nonostante ci sia un solo gol a Referto Sono certo che saranno contenti della prestazione del primo tempo e del punteggio E qui prende chiaramente l'avversario dunque punizione Può cercare il taglio in mezzo Fagner come abbiamo appena visto non disdegna una sortida in avanti di tanto in tanto Cavani Miracolo di Cassio Bruno Fernandes Ed ecco che viene servito sulla fascia Posizione irregolare però Raffaele Baran Una serie di passaggi puliti efficaci Diogo Dalot Il tabellino dei marcatori è stato inaugurato poco prima dell'intervallo Il punteggio è quindi di 1-0 Bruno Fernandes Sceglie di andare per via verticale Sospiro di sollievo sugli spalti e sono sicuro anche in panchina Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa Ha approfittato di un momento di incertezza degli avversari ed è entrato deciso Era l'unico modo per evitare di subire gol Prova a darla profonda nello spazio Ha calciato forte Finalizzazione decisamente infelice Ha caricato il tiro come meglio poteva Non era facile Ma quando una conclusione così va dentro diventa un euro goal Peccato Cristiano Ronaldo E passa Tenta Non si passa Stanno cercando chiaramente di farne un altro Con insistenza Fabio Una buona fase offensiva è la miglior difesa Fungendo così tengono il fulcro del gioco lontano dalla loro area di rigore La sua conclusione manca allo specchio della porta Al di là dell'esito finale Quest'azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede Bruno Fernandes Cristiano Ronaldo Arriva Cavani Cavani Prova il tiro Miracolo di Cassio Ha la possibilità di andare verso la porta Passaggio intercettato La difesa deve interpretare questa azione Che leggerezza Devono stare più attenti E' tutto L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara Una bella vittoria davvero fondamentale per il futuro Magari non spettacolare come in altre occasioni Ma insomma basta l'1-0 per portarsi a casa il risultato Cristiano Ronaldo E' stato giustamente votato come migliore in campo E' bastata una rete per decidere l'incontro